Actifuse rappresenta una nuova classe di sostituti per innesto osseo. Questo materiale unico è ideato per stimolare la formazione di nuovo osso. In questa immagine è possibile osservare un granulo di Actifuse. Focalizzandoci sulla sua struttura interna, appare chiaro come essa sia costituita da macropori, che interconnessi tra loro facilitano la rigenerazione ossea all'interno del sostituto stesso. Osservando le cellule in migrazione, possiamo vedere come la superficie di Actifuse abbia porosità anche a livello microscopico. Questa fitta microporosità permette al sostituto di adattarsi a diverse pressioni e di offrire una fitta rete di collegamenti tra una parte e l'altra del granulo. L'unicità di Actifuse è data dalle caratteristiche della sua superficie chimica. La presenza di ioni silicati rappresentata dai tetraedi blu incrementa la carica negativa superficiale del sostituto. Questa variazione della carica superficiale genera un profondo cambiamento sull'attivazione della cascata osteogenica. Il primo stadio della formazione ossea è l'adesione proteica. Ci sono migliaia di diverse proteine, ma solo quelle che possiedono la sequenza di peptidi RGD svolgono un ruolo rilevante ai fini dell'adesione delle cellule osteogeniche. In Actifuse, la carica superficiale negativa attrae un numero maggiore di proteine morfogenetiche e favorisce la loro adesione sulla superficie dell'innesto in posizione ottimale con la sequenza RGD disponibile per l'adesione delle cellule osteogeniche. Qui possiamo osservare la sequenza RGD delle proteine e vedere come la carica negativa attragga le proteine verso la superficie del materiale d'innesto e le unisca nella corretta conformazione permettendo ad un maggior numero di esse di aderire alla superficie. Al contrario, l'area evidenziata in rosso rappresenta una superficie priva di carica negativa e in questo caso è possibile osservare come le proteine aderiscano in maniera differente limitando l'ottimale adesione delle cellule. Le cellule precursori degli osteoblasti vengono attirate sulla superficie ricca di proteine. I punti di adesione delle cellule si spostano verso la superficie. Dove è presente un'elevata concentrazione di proteine vi sono maggiori punti di adesione e in questo modo le cellule aderiscono più rapidamente e in maggiore concentrazione. Dal momento che le cellule si uniscono alle proteine i filopodi si estendono a partire dalla membrana cellulare e le cellule si differenziano in osteoblasti responsabili della formazione ossea. Una volta che hanno aderito alla superficie gli osteoblasti proliferano ricoprendo il materiale d'innesto. Durante questo processo un livello ottimale di silicio rappresentato dai tetraedi blu viene rilasciato e accelera ulteriormente l'attività degli osteoblasti. Gli osteoblasti si trasformano in cuboidi e cominciano a produrre matrice extracellulare. Nella prima delle principali fasi di formazione ossea la matrice extracellulare si forma al di sotto della membrana degli osteoblasti causando così un loro innalzamento dalla superficie. Man mano che si forma sempre più matrice extracellulare gli osteoblasti rimangono intrappolati in quest'ultima formando gli osteociti poi rimineralizzati in osso a fibre intrecciate e questo rappresenta il secondo stadio della rigenerazione ossea. Se il quantitativo di osso a fibre intrecciate è sufficiente l'innesto e il materiale annesso saranno stabili prevenendo eventuali spostamenti. Gli osteoclasti rappresentati qui da nuove cellule multinucleate rosse attraversano la superficie del materiale assorbendo osso immaturo. Questo è l'inizio del rimodellamento osseo. Agli osteoclasti seguiranno nuovi osteoblasti che provvederanno alla formazione di nuovo osso lamellare. In questa sequenza possiamo vedere un avvallamento che è stato riassorbito da osteoclasti e riempito da più strati di osteoblasti i quali maturando danno origine ad osso lamellare che rappresenta il terzo e ultimo stadio della cascata osteogenica. Questo processo di rimodellamento continuo è costituito dalla sostituzione di vecchio osso con osso nuovo. Actifuse rappresenta una nuova classe di sostituto osseo sintetico che accelera il processo della cascata osteogenica. Actifuse, quindi, permette di formare più osso in meno tempo.